Come da partì via l'articolo che sta in vista risangendo un cavolo a puxciare, fesciare là, ma allora fai giù, veramente anche una bella pubblicità parlare molto. No, ma vai bene, no, ti ho dubbio, dai, allora, che io vengo. Ma è facile, infatti, a te, prima è in tequilo, perché te stai sentendo in Salterna in la Cattolossia, e vengo male a tutti che ci sono calici, che le loro in Germania. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.